Domenica 14 gennaio 2018, quattordicesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La chiesa ricorda Santa Bianca e San Felice. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Bianca, Dacia, Felice e Felicita. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è De Luca. Deriva dal nome Luca, quindi con un capostipite di nome Luca, oppure può significare la discendenza da un abitante della Lucania. La sua particolare diffusione nel Medioevo si deve invece al culto di San Luca Evangelista. Il cognome De Luca è panitaliano, con maggiore concentrazione in Campania e nel Lazio. Luca è diffuso in Sicilia e a Trieste. Luca è tipicamente calabrese. Lucchetti è del centro Italia, mentre Lucchini è toscano. Accadde oggi. Il 14 gennaio del 1976 esce il primo numero del Quotidiano La Repubblica, diretto da Eugenio Scalfari. Il nome viene scelto in omaggio a un piccolo giornale portoghese, che l'anno prima aveva dato voce alla rivoluzione dei Garofani. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, nato a Roma il 14 gennaio 1973. La citazione da ricordare. All'età di 50 anni, ogni uomo ha la faccia che si merita. George Orwell. Dice il saggio. Per chi è affamato? Il pane cuoce sempre lentamente. Proverbio afgano. Un consiglio al giorno. Quel bottone antipatico continua a staccarsi nonostante l'abbiate aggiustato più volte. Dopo averlo cucito a filo doppio, provate a fissarlo con un po' di smalto da unghie trasparente. Vedrete che questa volta l'antipatico bottone resterà al suo posto.